30 anni di Chernobyl ce li portiamo appresso, anche qui. Non sono state mai studiate fino in fondo le conseguenze su questo territorio del più grande disastro nucleare che la storia ricordi, l'unico classificato come catastrofico assieme a quello di Fukushima del 2011. L'unica cosa certa è che la nube tossica che si sprigiono dopo quel 26 aprile 1986 interessò anche la Puglia, anche il Salento. Un dato considerato scontato ma che oggi riemerge sulla base di prove diverse. Il video è relativo alla diffusione di Cesio 137 e dell'Istituto Francese per la Radioprotezione e la Sicurezza Nucleare e dimostra chiaramente come, in base a quei venti, quella nube radioattiva è riuscita a estendersi su buona parte dell'Europa. Nel tardo pomeriggio del 2 maggio di 30 anni fa si è avvicinata man mano dai Balcani e le coste adriatiche pugliesi investendo in toto la parte meridionale della regione. Sul Salento è rimasta almeno fino al 9 maggio, una settimana intera. La conferma arriva anche da altre mappe, sono quelle elaborate dal progetto Humus che da anni studia le ripercussioni di Chernobyl su base locale. Eccola l'evoluzione e coincide ancora la data del 2 maggio. Dall'Ucraina settentrionale fin qui dunque, quando il reattore numero 4 dello stabilimento nucleare Lenin si scopre che durante un test il mondo ha trattenuto il fiato. Probabilmente nessuno immaginava quanto sarebbe accaduto dopo, anche a migliaia di chilometri di distanza. C'è un documento che ancora rende chiaro quanto accadde e la perizia consegnata dai consulenti della procura di Lecce sulla possibile contaminazione poi esclusa da uranio impoverito nel poligono di Torre Veneri. Poco più di un rigo ma fuga ogni dubbio. È stata riscontrata e scritto limitatamente alle sabbie la presenza di cesio 137 proveniente dalle ricadute dei test nucleari condotti negli anni 60 dall'incidente di Chernobyl. Quali siano stati gli effetti sulla salute non è dato saperlo. Uno studio presentato ad un meeting del 1987 dell'American Nuclear Society ha stimato per l'Italia, con riferimento ai soli primi due mesi, una dose individuale media di radioattività assorbita dai cittadini oscillante dai 90 ai 500 microsievert. Calcolando che 20 è la dose di una radiografia del torace, è come se ognuno fosse stato sottoposto, un numero che varia da 4 a 25 radiografie indebitamente ricevute.